Ben ritrovati con la nostra informazione dal Piemonte e dalla Liguria. La demolizione del ponte Morandi inizierà il 15 dicembre. Parola del sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci che nel ricordare che la tempistica dovrebbe essere ultimata per quanto riguarda la nuova opera entro i primi mesi del 2020 sottolinea anche che ci sono alcuni passaggi burocratici prima da risolvere e ovviamente al di là della conversione in legge del decreto Genova che è passato e che è stato approvato il secondo poi quesito che era rimasto in sospeso è legato al dissequestro del ponte da parte della procura poi i lavori di demolizione potranno partire. Restiamo in Liguria dove anche il mondo agricolo fa i conti con i danni dell'ondata di maltempo che ha sferzato la riviera fino a ottobre e che sta tuttora flagellando in modo diffuso le coste e l'entroterra. Anche il comparto della pesca a causa delle forti mareggiate che hanno colpito le marinerie, distrutto imbarcazioni e reti è stato fortemente compromesso dalla veemenza delle intemperie. Doveva essere un'annata record per la Liguria che in controtendenza con la sofferenza nazionale nel comparto olivicolo aveva incrementato la produzione di olio di oliva aggiudicandosi un ruolo leader nel bel paese. E invece l'ondata di maltempo che si è abbattuta a fine ottobre flagellando in modo diffuso le coste del Tigulio ha colpito al cuore questa eccellenza Ligure. La pioggia battente e le raffiche di vento fino a 120 km orari hanno messo in ginocchio soprattutto le aree di riviera risparmiando in parte l'entroterra. Era questo il periodo clou della raccolta e della successiva molitura spiegano le associazioni Liguri di categoria col diretti Confagricoltura e CIA. In provincia d'Imperia dove si concentra la massima produzione di olio regionale 40% sono stati colpiti circa il 70% degli olivicoltori presenti che hanno perso la metà del prodotto mentre nel Savonese già colpito da una pesante grandinata a settembre in alcune realtà si è sfiorato l'80% di raccolto distrutto. Non è andata meglio nel Levante dove fra le province di Genova e la Spezia sono andate perdute il 50% delle olive presenti. Col diretti stima in circa 19 milioni di euro i danni compresi quelli avuti al settore orticolo principalmente Levante e Florovivaistico ponente con problemi a serre, muretti a secco e la perdita di colture a pieno campo. Nel complesso va però detto che i muretti a secco hanno tenuto e che fra i danni di non minore entità vanno segnalate a macchia di leopardo anche serre a tunnel e strutture florovivaistiche scoperchiate dal vento e allagate dalle bombe d'acqua. Qui a soffrire sono i ciclamini e le stelle di Natale. Altro aspetto da tenere in considerazione fra i disagi collaterali al mondo agricolo ligure sono le strade interrotte da frane e i collegamenti difficoltosi per il conferimento di latte e ortaggi a valle. È in corso la segnalazione dei danni che verranno poi girati con tutta la modulistica del caso all'Ispettorato regionale agrario al fine di arrivare ad essere risarciti per calamità naturale, ha spiegato Aldo Alberto, presidente regionale Cia Liguria ma ad oggi non ci risulta ci siano soldi a disposizione. È necessario, ha aggiunto Alberto, che il governo entri nell'ottica che questi non sono più eventi eccezionali. Ne abbiamo parlato ancora sabato scorso nell'ambito del convegno organizzato ad Imperia per l'evento Olio e Oliva. Al centro le infrastrutture e le aree rurali liguri. Occorre prevenire, ha ribadito il direttore di Confagricoltura Liguria Andrea Sanpietro, lavorando su una salvaguardia reale del territorio, attuando per esempio una conservazione dei muretti a secco globale. E poi c'è il discorso legato alle assicurazioni che non devono essere capestro ma aiutare davvero l'imprenditore agricolo. Da noi è difficile assicurare tutto ciò che non si trova sotto le serre. È anche da questo punto di vista che occorre ripartire, conclude Sanpietro, dando la possibilità concreta alle aziende danneggiate di potersi rimettere in piedi. In caso di riconoscimento di calamità naturale, che ha subito un danno alla sua serra, può ricostruirla grazie alla misura 5.2 del PSR con un contributo fino all'80%. Nuove sfide per il futuro della città di Acquiterme, ce ne parla Fabrizio Mattana. Mentre ad Acquiterme continua la bagarre in Consiglio Comunale sull'approvazione del bilancio, che secondo i controlli dei rivisori dei conti non sarebbe in equilibrio tanto da scatenare le proteste delle opposizioni, con il centrodestra che nell'ultima seduta ha disertato l'aula e che se non verrà fatta chiarezza potrebbe portare il Comune al commissariamento, la città cerca comunque di rifarsi il look, usufruendo anche dei contributi regionali e statali disponibili, come i 2 milioni e mezzo di euro, che il Ministero per i beni culturali, tramite la sovrintendenza ai beni architettonici del Piemonte, elargirà per la messa in sicurezza dei resti dell'aquedotto romano. L'opera sarebbe un input al proseguimento dei lavori per il prolungamento della pista ciclabile. Con la cifra suddetta, che sarà disponibile entro il 2019 in diverse tranche, la prima di 1 milione e 200 mila euro, non solo verranno rinforzati piloni e arcate, ma sarà costruita anche una barriera di contenimento del monumento stesso. Acqui poi è in prima linea per cercare di offrire nuovi e migliori servizi ai cittadini, con Alessandria, Casale Monferrato, Castelnuovo Scrivia e Bistagno, risulta essere uno tra i primi comuni della provincia che ha immesso la propria banca dati anagrafica nella nuova anagrafe nazionale della popolazione residente, in grado di accorpare i dati di oltre 8 mila comuni italiani. Con questo sistema, in ogni comune aderente alla NPR, sarà possibile ottenere non solo certificati, ma a tale banca dati potrà accedere l'intera pubblica amministrazione, traghettare da un'anagrafe locale o un'unica nazionale, ha commentato il sindaco Lorenzo Lucchini, rappresenta un delicato passaggio strategico per il nostro ente e quando la totalità dei comuni emetterà in rete i propri dati, capiremo la portata ai benefici di tale progetto. Cristoforo Colombo, non si sa dove sia nato, ma è certo che sua madre Marietta Ceva in Colombo era una monferrina per la precisione di Cuccaro, in provincia d'Alessandria. Un gruppo di studiosi che continua ad indagare sulla figura del grande ammiraglio, ha scoperto che sua madre nel suo stemma araldico include anche quello della nobile famiglia Fieschi di Genova. Quanto sia importante questa scoperta è stata spiegata in un volume, presentata in un congresso internazionale, nell'ambito di un evento promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Sembra non finire mai il fascino che avvolge la figura di Cristoforo Colombo. Un gruppo di studiosi italiani e stranieri da tempo collabora con l'Associazione Centro Studi Colombiani Monferini per cercare di reperire nuovi documenti inediti e le illustri parentele che possano spiegare le grandi entrature di Cristoforo Colombo nelle corti europee che gli consentirono di ottenere gli appoggi necessari per realizzare i suoi viaggi svolti alla scoperta del nuovo mondo. La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha ospitato la presentazione del volume che raccoglie gli atti del Terzo Congresso Internazionale Colombiano che si era tenuto nel 2017 a Torino. Il Presidente della Fondazione Pierangelo Taverna ha dichiarato siamo particolarmente onorati di ospitare la presentazione di questi atti che presentano importanti novità sulle origini monferrine della famiglia Colombo. Durante il convegno l'avvocato Giorgio Casartelli Colombo di Cuccaro ha esposto i documenti di archivio che dimostrano le illustri parentele europee di Marietta dei Marchesi di Ceva che era la madre di Cristoforo Colombo. L'appartenenza di Cristoforo Colombo alla famiglia Colombo di Cuccaro è particolarmente interessante e oltre all'approfondimento di tante ricerche che abbiamo fatto la prova della parentela tra Cristoforo Colombo e Bartolomeo Fieschi. Cristoforo Colombo nelle sue imprese aveva come braccio destro, cioè aiutante più fidato, Bartolomeo Fieschi che era appartenente a una grandissima famiglia. I Fieschi sono le famiglie più importanti di Genova. Alcuni storici genovesi sostenevano che Cristoforo Colombo avrebbe mentito quando diceva che Bartolomeo Fieschi era il suo parente perché dicevano che un mozzo ignorante, come sostenevano alcuni storici genovesi negli anni passati ma adesso un po' meno, non poteva avere come parente Bartolomeo Fieschi. Noi pubblichiamo 35 tavoli inedite della famiglia Ceva a cui apparteneva Marietta Ceva di Lesegno che era la madre di Cristoforo Colombo. Quindi abbiamo trovato la madre, abbiamo trovato le parentele e da queste parentele viene fuori il legame strettissimo tra Cristoforo Colombo e Bartolomeo Fieschi. Le nuove acquisizioni nell'ambito della raldica colombiana. Cristoforo Colombo apparteneva a una famiglia che era titolare di uno stemma e dalle varianti che sono state apportate a questo stemma risulta l'ultima acquisizione che è andata a identificare una famiglia Colombo, una derivazione della famiglia Colombo di Cuccaro che ha il nome di Lovatelli ed è proprio su questo che si articola in particolare la novità perché nello stemma Lovatelli abbiamo un'immagine dove associa lo stemma antico dei Colombo e quello del Monferrato. Presentata da Alessandria la sesta edizione del corso di formazione intitolato I più fragili fra i più deboli, giallo come il miele. Il primo appuntamento è per il prossimo 23 novembre. Alvia l'edizione 2018-2019 del corso di formazione I più fragili fra i più deboli, giallo come il miele. Promosso dall'associazione amici ed ex allievi del liceo scientifico Galileo Galilei in sinergia con lo stesso liceo. Illustrato nella sede alessandrina dell'ufficio scolastico regionale per il Piemonte, il progetto ha lo scopo di formare i formatori. È rivolto ad insegnanti e giornalisti e tocca il tema del diritto allo studio a 360 gradi grazie al patrocinio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 15 gli incontri di due ore ciascuno per un totale di 30 ore complessive che caratterizzano la sesta edizione del corso che in occasione del 29esimo anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, cade il 20 novembre, prenderà il via il venerdì 23 per poi articolarsi nelle aule magne, delle scuole e degli istituti della rete che partecipano agli eventi. Nato e sviluppatosi grazie alla tenacia delle volontarie e volontari dell'associazione culturale Amici ed ex allievi del liceo scientifico Galilei di Alessandria, dal 1989, a fianco di questo liceo, il corso di formazione, i più fragili fra i più deboli, giallo come il miele, negli anni si è sempre più affinato. E la novità di quest'anno è la sinergia intensamente evoluta e calteggiata dal giornalista e fisioloi. Con l'adesione al progetto anche dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte e del Circolo Provinciale della Stampa, si avvera la promozione del diritto all'informazione, sviluppata in tre lezioni, a tutto beneficio, oltre che del corpo docente della scuola, anche di quello dei giornalisti, facendola sorgere a vero e proprio corso di aggiornamento. Tra i numerosi partner di questo progetto ci sono la Questura di Alessandria, l'Università e il Comune. E sempre ad Alessandria la Fondazione Ospidalet promuove una lotteria per acquistare un ecocardiografo per l'ospedale infantile De De Vinci. E' stato dato via ufficiale alla macchina organizzativa della nona edizione della lotteria di Natale della Fondazione Ospidalet Onlus di Alessandria. Chi parteciperà avrà la possibilità di vincere uno dei numerosi preziosi premi messi a disposizione dagli sponsor. Complessivamente si tratta di 600 premi e il primo è una vacanza di tre giorni davvero speciale per due persone in uno dei 25 alberghi italiani a 5 stelle della collezione Blastness Nero Hotels. Ma la cosa importante davvero è che con la partecipazione alla lotteria si finanzierà l'acquisto di un ecocardiografo per l'ospedale infantile. L'iniziativa è stata illustrata dalla Presidente della Fondazione Ospidalet alla Cucnerova nel corso di una conferenza stampa che ha visto partecipare autorità, medici, benefattori e volontari. E come ha detto la Presidente, questa è l'operazione Senti il mio cuoricino, finalizzata all'acquisto di un ecocardiografo per il reparto di pediatria e il pronto soccorso dell'ospedale infantile Cesare Arrigo che ne è sprovvisto. E quanto sia importante ce lo spiega il primario Enrico Felici. Colgo l'occasione innanzitutto per ringraziare la Fondazione Ospidalet per il preziosissimo e fondamentale contributo che ci ha dato e che ci sta dando per l'acquisto dell'ecocardiografo pediatrico di ultima generazione. È uno strumento assolutamente fondamentale per il proseguo dell'attività importantissima che l'ambulatore di cardiologia pediatra sta svolgendo da questa primavera attirando una popolazione pediatrica assolutamente rilevante che sino ad oggi non poteva rivolgersi all'ospedale infantile semplicemente perché mancava la professionalità che dalla primavera abbiamo acquisito nella figura della dottoressa Cairello. Basti pensare che sino ad oggi i bambini con necessità cardiologiche erano obbligati a rivolgersi all'ospedale infantile di Torino oppure al casino di Genova dove sfortunatamente i listi di attesa possono raggiungere anche l'anno. Il nostro ambulatorio è rivolto a bambini neonati anche prematuri quindi che pesano 500 grammi fino a bambini, ragazzi, adolescenti e l'importanza dell'ecocardiografo che stiamo cercando di acquisire grazie all'aiuto della Fondazione Spidalette è proprio un ecocardiografo di ultima generazione che ci consente di studiare un ampio range di pazienti che vanno da 500 grammi di peso fino a 50, 60, 70 chilogrammi di peso. Quindi è necessario l'acquisto di un apparecchio veramente di alta fascia proprio per consentirci di avere questo ampio spettro di pazienti da curare nel miglior modo possibile. La pagina sportiva di oggi è dedicata al tennis. Fabrizio Mattana ha incontrato Manuela Falleti campionessa iridata ai mondiali nel doppio over 40. Tra poco il servizio, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci alle prossime edizioni. Grazie.